benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa evangelo come prima perché come sapete oggi andiamo in corte di cassazione per depositare questa eccola qua ve la faccio vedere per la prima volta in diretta è la proposta di legge di iniziativa popolare del popolo della famiglia sul reddito di maternità dopo la leggeremo integralmente in maniera che questa giornata che è una giornata senza dubbio storica per il popolo della famiglia però una giornata storica come tra l'altro è storica la data perché oggi 9 novembre è il giorno non c'è su nessun giornale siamo a stampa evangelo ma lo vogliamo ricordare della caduta del muro di berlino quel giorno straordinario me lo ricordo ero 18enne ma mi ricordo con nettezza quei miei coetanei che dall'est passavano finalmente attraverso il muro abbattuto gridando quella parola in tedesco freiheit freiheit che era la parola diciamo che era al cuore di questa giornata di quel 9 novembre 1989 in cui la parola freiheit significa libertà era la parola cruciale cadeva il muro che aveva oppresso mezza europa e nasceva una dimensione di libertà che purtroppo poi ha avuto evoluzioni anche a livello europeo non pienamente soddisfacenti noi oggi vogliamo parlare di libertà questa puntata di stampa evangelo è dedicata alla parola freiheit alla parola libertà che è risuonata il 9 novembre 1989 a berlino il giorno della caduta del muro e noi oggi altra giornata storica 9 novembre 2018 andiamo a presentare una legge di libertà per liberare le donne italiane dalla oppressione dell'impossibilità di curare la propria famiglia le liberiamo attraverso l'istituzione del reddito di maternità 1000 euro al mese alle donne che vorranno dedicarsi in via esclusiva alla cura dei figli e della famiglia 12.000 euro netti leggerò adesso la proposta di legge per come è articolata per come la depositeremo in cassazione per chiudere la stagione delle donne di serie b non è che una donna che si dedica alla famiglia è una donna di serie b abbiamo voluto intitolarla istituzione dell'indenità di maternità per madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare cioè vogliamo indicare nella donna madre che cura i propri figli una lavoratrice è una evidente oppressione culturale dice monica vitali che ci ha costruito intorno un'idea appunto degradata della donna che si occupa della famiglia come donna di serie b o donna non lavoratrice noi vogliamo proprio in termini valoriali restituire libertà alla donna cioè dare alla donna la possibilità di scegliere semplicemente se fare il lavoro fuori dall'ambito familiare o fare quel lavoro estremamente carico di fatica che è il lavoro nell'ambito familiare avendo però un riconoscimento in termini reddituali appunto con questa indennità di maternità che riconosceremo attraverso la legge di iniziativa popolare che presentiamo tra pochi minuti per la precisione tra 67 minuti in corte di cassazione è una legge che poi richiederà la nostra mobilitazione per riaccogliere entro 180 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale che dovrebbe avvenire entro la metà di novembre a questo punto dal giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale avremo 180 giorni per raccogliere almeno 50.000 firme e poter così consegnare formalmente la proposta di legge come deposito di disegno di legge di iniziativa popolare al Parlamento ma al disegno di legge caratterizzante della nostra mobilitazione per quella campagna elettorale che era appunto il reddito di maternità lo consegneremo comunque al Parlamento non con i parlamentari ma con la mobilitazione dell'intero popolo della famiglia dopo che si presenta che succede? dice Fabrizio D'Alessandro è insabbiata nelle camere? Vedremo, saremo bravi noi, spero, a costruire quella condizione di costruzione di un consenso affinché la legge possa avere invece l'approvazione di questo Parlamento perché noi riteniamo che sia una legge di buonsenso e che il Parlamento possa approvarla visto che la legge di iniziativa popolare, l'ultima che è stata portata al Presidente Fico era quella di Marco Cappato per l'istituzione dell'eutanasia 130.000 firme raccolte dalla Luca Coscioni per l'istituzione dell'eutanasia noi vogliamo portare un segno di mobilitazione popolare culturalmente di segno opposto quindi cultura della vita e della famiglia da opporre a una legge di iniziativa popolare che invece è una legge per la morte e la soppressione e l'assenza di cura nei confronti dell'affaticato e del sofferente vogliamo dare dunque anche un segno davvero culturale di capacità di mobilitazione di un'Italia che è diversa non deve essere sempre la solita Italia che fa questo tipo di mobilitazione ma un'Italia diversa che per la prima volta mette la cultura della vita non solo al centro di una convennite di stampo cattolico ma esce dalla convennite e si fa reticolato organizzativo per arrivare concretamente alla presentazione di una legge ripeto al Parlamento e vorremmo davvero che l'attività del popolo e la famiglia fosse ricordata quando ci saranno pagine di storia che la racconteranno come un'attività che è partita dal porre al centro la figura della donna madre e dell'essere figli perché poi alla fine siamo tutti figli che abbiamo bisogno disperato di essere amati totalmente proprio come una madre ama i propri figli questo è secondo me il cuore del messaggio che vuole portare avanti il popolo della famiglia e lo fa nell'ambito politico facendo proposte di iniziativa popolare di legge come quelle che stiamo per andare a depositare in corte di Cassazione la legge si intitola istituzione dell'indennità di maternità per madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare la legge è composta da un solo articolo come sapete perché c'è stato un mandato in questo senso della prima proposta che è emersa alla festa di Camaldoli e il mandato successivo che è stato dato dall'Assemblea nazionale del popolo della famiglia del 17 di ottobre questa la legge nella sua complessità si istituisce l'indennità di maternità per madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare tale indennità pari a 12.000 euro annui netti privi di carichi fiscali o previdenziali è riconosciuta su richiesta da avanzare presso il comune di residenza alle donne madri cittadine italiane la richiesta dell'indennità di maternità può essere avanzata dell'evento diritto entro 15 giorni dalla nascita di un figlio o figlia o dalla sentenza di adozione che riconosce una maternità adottiva per ogni bambino può essere prodotta unicamente una domanda da una sola donna tale donna otterrà l'indennità di maternità per i primi 8 anni di vita del figlio in assenza di altri redditi o impegni lavorativi scegliendo dunque di dedicarsi in via esclusiva alla condizione di madre lavoratrice nell'ambito familiare con particolare riguardo alla cura dei figli in caso di assunzione di impegni lavorativi esterni alla cura familiare l'indennità di maternità si interrompe la durata di 8 anni riparte alla nascita di ogni figlio alla nascita del quarto figlio l'indennità riconosciuta alla madre diventa vitalizia l'indennità è vitalizia anche in caso di nascita di figlio disabile sempre in occorrenza del prerequisito dell'attività esclusiva di lavoro di cura familiare scelto dalla donna madre per l'indennità di maternità sono stanziati 3 miliardi annui dal fondo della presidenza del consiglio per la famiglia e le pari opportunità nel triennio 2020-2022 la presentazione ufficiale visto che vedo Marco Sciamanna di tutte le tempistiche la farò domani alle ore 17 a Santa Maria degli Angeli ad Assisi ancora una volta ci metteremo sotto il volto protettivo della nostra madre celeste a Santa Maria degli Angeli e avvieremo concretamente con la calendarizzazione tutta la nostra attività derivante da questa storica giornata farlo anche per i papà l'assegno di cura per i figli perché noi vogliamo esattamente mettere al centro la figura femminile materna perché quello che stanno cercando di fare è passare dal concetto di ruolo paterno e ruolo materno a un concetto ideologico e generico di genitorialità noi non vogliamo far crescere il concetto di genitorialità che è un concetto ideologico noi vogliamo che i bambini abbiano diritto a una mamma e a un papà nei loro rispettivi ruoli e dunque il ruolo paterno e il ruolo materno siano assolutamente ben distinti e la legge la vogliamo per mettere al centro la figura materna femminile lavoratrice riconoscendo che questo ruolo di lavoro si può svolgere anche in ambito familiare grazie a tutti voi e andiamo a fare la storia tutti insieme da Maria Rinolfi una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti